Buongiorno, sono Denis Mancarella, il titolare di DMC. Oggi qui vi presento l'etichettatrice multiformato. Con questa etichettatrice è possibile lavorare qualsiasi tipo di formato, rotondo, quadrato, rettangolare ed ovale, con la possibilità sia di applicare sul rotondo un'etichetta unica avvolgente, una doppia etichetta anti-retro e così per i formati quadrati e rettangolari il fronte e il retro e così anche per gli ovali il fronte e il retro. Grazie alla possibilità della gestione delle angolature delle due teste per il fronte e il retro, quindi è possibile lavorare qualsiasi tipo di flacone. Buona parte delle regolazioni viene gestita tramite il touchscreen, lo si può fare anche secondo l'industria 4.0 e le altezze vengono gestite manualmente con la possibilità di prendere nota del valore indicato nell'indicatore qui arancione. La gestione delle velocità può essere sempre effettuato da touchscreen così come anche l'uscita dell'etichetta. Per quanto riguarda le altezze abbiamo la possibilità di gestire altezze di etichetta da 2 cm a salire, 17 è lo standard, 21 quella che viene utilizzata molto spesso come anche molto più grandi, quindi le macchine vengono costruite in funzione della richiesta specifica del cliente. Buona parte delle motorizzazioni sono passo passo, quindi con estrema cura e precisione dell'emissione dell'etichetta. Per quanto riguarda la possibilità del rotondo e se viene gestita con i classici tre rulli, per quanto riguarda invece i rettangolari e i quadrati abbiamo il ferma bottiglia e l'erogazione in questa zona con le spaziole poi per l'applicatore finale. La lunghezza della macchina è di tre metri con una larghezza di circa un metro e sessanta. La costruzione del nastro ripeto è di tre metri proprio per poter garantire un maggior polmone all'entrata delle bottiglie e poter garantire una miglior gestione, un ferma bottiglia durante l'erogazione dell'etichetta che è sicuramente garantita in precisione e velocità.